La scelta di Roma nasce da un riconoscimento che la comunità internazionale ha avuto nei confronti dell'Italia, infatti stiamo lavorando tantissimo a livello internazionale, siamo molto attivi nei collegamenti con i diversi paesi e poi Roma è la città istituzionale per definizione, questo convegno è un convegno giovane e ha bisogno di un certo consolidamento. Questo evento è un evento che appunto sta crescendo, sta diventando sempre più importante perché è noto a tutti qual è il ruolo delle tecnologie oggi all'interno della sanità e da questo punto di vista comincia ad essere noto la necessità di competenze che in qualche modo governano quella che è la complessità che le tecnologie hanno con sé. Da questo punto di vista a livello internazionale si identifica sempre più nell'ingegnere clinico un ruolo centrale di gestione e di governo delle tecnologie. Per questa ragione si sentiva a livello internazionale la necessità di avere un evento di riferimento per i professionisti, per gli ingegneri clinici che in qualche modo facesse convergere non solo la comunità internazionale ma anche tutti gli attori di riferimento inerenti le tecnologie innovative. La gestione delle tecnologie è un'attività molto complessa e come Associazione Italiana Ingegneri Clinici noi abbiamo lavorato tanto anche sugli aspetti comunicativi. Dal nostro punto di vista è importante far capire ai pazienti ai cittadini qual è l'attività e qual è la competenza necessaria per garantire un utilizzo sicuro delle tecnologie. Quando entriamo in ospedale ci sono tantissime tecnologie. Il concetto è un po' simile a quando prendiamo un aereo, quando saliamo su un aereo. Siamo certi, siamo convinti che vi siano delle attività importanti da un punto di vista manutentivo su quel veicolo che ci diano sicurezza nell'affrontare un viaggio e quant'altro. Il nostro obiettivo da un punto di vista associativo è proprio questo, cioè quello di cercare di far capire che anche negli ospedali, nelle strutture sanitarie, dove ci sono tecnologie molto complesse, c'è un'attività molto complessa che garantisce la sicurezza e la tutela dei cittadini. Trattandosi di un convegno internazionale affronteremo tutte le tematiche principali inerenti la professione. Infatti vi è un'esigenza in qualche modo di trovare una codifica comune in termini di attività, di metodi, di approcci a criticità che bene o male sono le stesse all'interno dei diversi contesti operativi. Certamente uno dei temi più importanti riguarderà quello dei medical device, della loro corretta gestione e soprattutto della loro corretta integrazione con le reti di dati. Questo è un tema che più volte è stato richiamato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro sarà presente al convegno internazionale.